Si parla anche del problema dell'abbandono dei rifiuti domani sera durante la seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Ovada. Fra i punti e l'ordine del giorno infatti c'è la mozione presentata dal consigliere Angelo Lovis Priolo di Ovada Viva sui metodi di contrasto al problema, che è diventato sempre più rilevante dopo l'introduzione del metodo di raccolta porta a porta e la conseguente eliminazione di cassonetti stradali. Sacchette di immondizie si trovano ora frequentemente ai bordi delle strade, ma ancora di più nelle campagne, nei boschi, in riva e torrenti. Lo sa bene chi dovante una passeggiata all'aria aperta vi si imbatte. Non è un bel vedere, certamente, specialmente in un territorio a vocazione turistica. E sono molti i cittadini che incalzano il comune a trovare soluzioni per individuare i responsabili. La richiesta di fototrappole, che è in comuni limitrofi, sta già funzionando, è stata avviata da tempo all'amministrazione comunale. Il consigliere Priolo domani sera chiederà conto dei ritardi nell'affrontare un problema sotto gli occhi di tutti. Se è vero, come sottolineano la Econet, la società che si occupa di raccolta e rifiuti, che una certa percentuale di abbandoni fosse stata messa in conto, è anche evidente che forse la medesima è già stata ampliamente superata, di fronte tuttavia ad una raccolta differenziata che supererebbe l'80%. Sono molti quindi coloro che si comportano correttamente, ed è anche per rispetto verso di loro, ha spiegato il consigliere di Ovadaviva, che sarebbe opportuno riuscire ad inchiodare il più presto chi sgarra. Nel Consiglio Comunale di domani sera, oltre che di rifiuti, si parlerà anche di bilancio, con l'approvazione del bilancio consolidato 2020 e la variazione degli stanziamenti di entrate e di spesa del bilancio di previsione 2021-2023.